La strada provinciale 8 Pennefarindola vedrà la fine dei lavori a maggio del 2024. Presenti questa mattina nella sala Tinozzi della provincia di Pescara, oltre al presidente Ottavio De Martinis, i sindaci di Pennefarindola, Gilberto Petruccio e Lario Lacchetta, i consiglieri provinciali, Emilio Camplese e Gabriele Colasante. La provinciale 8 è un tratto fondamentale per la viabilità del territorio che verrà messo in sicurezza anche rispetto alle frane avvenute di recenti. ha ribadito De Martinis, le quali avevano reso impraticabile la zona di Rigopiano dal versante pescarese. Intervento che ha riguardato non soltanto la rivolificazione della strada e quindi il rifacimento del tappetino, ma anche il distesto idrogeologico. Ci sono stati più interventi in corso di questi mesi e siamo quasi in fase conclusiva. Il cantiere attualmente è stato sospeso per una precisa richiesta di alcune attività che durante il periodo ferragostano e a seguire avevano fatto appunto richiesta un appello alle amministrazioni e all'ente provincia al fine di poter almeno lavorare in questo periodo. I lavori noi abbiamo coscienziosamente sospeso, ripartiranno il 15 di questo mese. Il dirigente Scorrano ha rimarcato la particolare ubicazione e l'arteria soggetta a tutti i vincoli di conservazione e di tutela. Pertanto l'intervento principale finanziato con i fondi masterplan di circa 4 milioni di euro ha richiesto un tempo piuttosto lungo per essere trasformato in cantiere. A rallentare il corso anche una frana che ha interessato la strada comunale Piane Vicenne a maggio 2023, per cui sono state richieste risorse aggiuntive per circa 600 mila euro attraverso un mutuo alla cassa, depositi e prestiti. Il corso complessivo è di 6 milioni e 700 mila euro. Di questi 6 milioni e 700 mila euro, 200 mila euro sono tratti dai fondi ministeriali appositamente destinati per la manutenzione delle strade che ricordiamo in sei anni sono circa 9 milioni di euro per l'intera rete viaria provinciale di circa 600 chilometri. La SP8 è di circa 19 chilometri. Oltre alla quota del decreto ministeriale che è pari a 200 mila euro, la provincia è riuscita ad intercettare, grazie alla regione Abruzzo, altri 6 milioni e mezzo di euro che consentiranno entro un maggio del 2024 di riportare la strada interamente funzionante con tutta quanta la sezione stradale completamente riasfaltata.